Camminando vedendo questo palo a terra, abbattuto forse dal vento, dalle imperie o da qualche persona che vuole fare vandalismo, però vedendo il palo per terra è venuto a mente che prima o poi arriverà un addetto, lo solleverà e lo riposizionerà dove era prima, però guardandolo così mi viene in mente le tantissime volte che sono stato abbattuto dalla vita o dalla cattiveria o dalla disumanità degli uomini e a me chi mi ha realizzato ogni volta? Qualcuno l'ha fatto, non certo io da solo, come questo palo non potrebbe mai rialzarsi da solo.